salve mappa gli occhiai c'ho sonno si vede sono 10 e un quarto ho passato buona domenica tutta la domenica a organizzare una parte dei video di quando non ci sarò perché sarò in ferie no perché tiro lo zampino e tutto il giorno che parlo non ne vedo più però devo fare anche quello serale e son giunta alle 22 13 a farlo peraltro volevo anche uscire un po il paesello che stasera c'ha la musica dal vivo giù alla piazza come ieri mo vedo se faccio a tempo se ce non voglia se non crollo dal sonno e vari ed eventuali quindi ad agosto mi rivedrete con la stessa maglietta per giorni e giorni e giorni ma non è perché non mi sto lavando è semplicemente perché ho fatto degli stock di video tutti insieme e poi li ho messi in programmazione di modo che escano man mano per quanto riguarderanno i con i commenti sui video se riesco con l'aggeggio infernale alias cellulare magari rispondo pure ma siccome ho forti dubbi perché io e gli smartphone siamo nemici giurati io li uso per due cose fare i video e guardare ogni tanto le situazioni da pagare della team dell'enel e via dicendo con le app e per guardare il reddito di cittadinanza con l'app se no io tengo le suonerie spente tengo le notifiche staccate non tengo messenger non tengo messaggerie ho whatsapp per sfiga perché mio figlio ogni tanto mi scrive lì faccio tardi arrivo qua la sua e giù che poi puntualmente lo vedo quando è già arrivato a casa che mi aveva scritto e quindi di conseguenza manco parlo perché sono sorda e quindi non sento i vocali li odio quindi è inutile che so tenere io ho un pc a parte lo schifo della cenere dovunque meglio ho aiuto un pc desktop di quelli vecchio stampo con torrone senza casse senza audio senza cam senza una pipa di niente e vivo felice così perché io uso internet per studiare uso internet per fare i video uso internet per trovare nuove argomentazioni eccetera uso il pc per scrivere i miei libri per fare i documenti che mi servono quando mi servono pagare online le utenze ma a me di fare vita sociale non me ne può fregare di meno tra l'altro non avrei neanche il tempo di mettermi a chiacchierare figuriamoci col telefono poi non ci penso manco ma è proprio antipatico lo utilizzo peraltro ne ho due che uso entrambi ma per le cam per le foto per i video e per qualche app di gestione utenze fine del mio grande utilizzo del telefonino ma appunto se riesco ai commenti su youtube può darsi che riesco a rispondere se no abbiate venia e attendete il mio ritorno al 4 di settembre quindi giustamente siccome dicevo che ho buttato giù una serie di video un po di tutti i tipi per parare le giornate poi sono arrivata stasera e non avevo argomenti allora che vi racconto potrei parlare di una testimonianza di una vita argomento che tra l'altro è venuto fuori da poco con uno con un'amica su facebook perché stavamo parlando di non mi ricordo cosa comunque degli antenati dei legami con gli antenati eccetera e io gli ho scritto a guarda perché io c'ho il vizio di prendere in giro sempre quando qualcuno scrive chiama il prete allora lei per farmi la contro battuta a me su una boiata che avevo messo per ridere ma scritto sotto chiama il prete e ci dico sì allora faccio una seduta spiritica e vado a chiamare il mio trisnonno che era un arciprete ed era anche esorcista finisce lì dopo un po' risponde un'altra amica e mi dice in che senso scusa il tuo trisnonno era un arciprete quindi così il mio trisnonno era un arciprete esorcista e allora la spiego e la racconto dunque il mio trisnonno di cui ignoro completamente il nome ma il cognome era romano venne mandato dal nord a fare l'arciprete per per una diocesi di un paese in provincia di palermo che però anche lì c'è un po di nebbia perché io tante cose me le hanno raccontate che ero bambina e non è che mi ricordo proprio bene 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 tutta la situazione non ricordo se era un arciprete di contessa entellina se era un arciprete di ravenusa o se invece era da grigento i don't know non mu ricord comunque in sicilia tagliamo la testa al topo no povero topo il topo non c'entra comunque viene mandato dal nord in sicilia gli viene data una diocesi per fare l'arciprete esorcista non fosse che il mio trisnonno era relativamente giovane ed era anche un uomo insomma con un certo sau affair si direbbe oggi in quella diocesi ci va a fare le pulizie come perpetua una ragazza giovane e vedi la perpetua oggi e vedi la perpetua domani la perpetua si è innamorata del mio trisnonno e il mio trisnonno si è innamorato della perpetua al che è successo il patatrac e patatrac che serata che serata pata pata patatrac siete troppo piccole non ve lo ricordate patatrac mi si è rotta la frittata pata patatrac comunque patatrac era uno spettacolo di fine anni 70 o proprio primi anni 80 sulla rai e c'era la sigletta che faceva patatrac 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 che serata che serata comunque tornando seri succede il patatrac ma il mio trisnonno carta e penna che non erano queste all'incirca intorno al 1840 1850 no forse 1860 1870 e scrive una lettera al papa spiegandogli la situazione dicendogli guarda io mi voglio togliere da dal clericato perché mi sono innamorato della ragazza che viene qua a farmi le polizie lei è innamorata di me e peraltro è ciumba di qua e ciumba di là è anche incinta quindi la voglio sposare e riparare al danno che ho combinato stiamo parlando della sicilia del 1870 1880 forse quindi piammolo con le pinze e voglio togliermi da tutto il papa che secondo me in quel periodo lì aveva carenza di arcipreti esorcisti gli ha scritto un papiro che non finisce più e gli ha scritto no assolutamente non mi ricordo chi fosse il papa in quel periodo lo sapevo il nome ma papa nel 1880 più o meno allora vincenzo gioacchino raffaele luigi peccidetto leone tredicesimo ok comunque papa leone tredicesimo risponde in prima persona c'è da dire che in quel periodo lì quelli che avevano studiato da esorcisti ed erano anche dei veri esorcisti che erano e sono ancora più rari ora ma erano rarissimi anche all'epoca gli si stringevano le ciap al pensiero che se ne andasse anche perché il mio tresnonno sicuramente aveva intrapreso quel tipo di carriera perché come tutto il ramo della mia famiglia già li vedeva di suo anche se poi come tutte le persone più o meno dell'epoca aveva confuso le cose e aveva capito a modo suo e in effetti si era buttato sulla religione come è successo a pio come è successo a tanti altri comunque tornando al mio tresnonno il papa gli risponde e leone tredicesimo gli scrive una lettera il telefono ancora non esisteva a me uccia ancora si stava facendo i fatti suoi e gli dice non ti levare dal dalla toga dalla tunica rimani arciprete lì non te preoccupa tieniti la fidanzata cresci i tuoi figli mantieni li è tutto il tuo figlio perché all'epoca era uno all'inizio gli diamo un cognome noi inventato dalla chiesa di sana pianta che non esiste da nessuna parte così i figli non risultano figli di nn ma figli di qualcuno e tu ti fai comunque la tua vita come te pare però non mi lasci senza un esorcista e il mio tresnonno un po perché contro il papa non ce se poteva nà un po perché comunque come arciprete esorcista lo stipendio non faceva neanche tanto schifo un po perché comunque anche alla perpetua la cosa stava bene tutto sommato chi se ne frega e ha accettato la chiesa quindi diede un cognome al primo figlio del mio tresnonno e lo crebbe comunque il mio tresnonno insieme alla perpetua come una coppia normale come una coppia di protestanti dopo due anni neanche forse gli nasce il secondo figlio perché con la perpetua poi non avevano cominciato a giocare a carte e quindi ari penna che però probabilmente era di più madoka all'epoca quindi penna alla mano a riscrive al papa e gli dice a leonci io qua aspetta il secondo bisogna che ci diamo il cognome del primo perché sennò fa una brutta figura mia signora e il papa come aveva concesso quel cognome inventato dalla chiesa per il primo figlio diede lo stesso identico cognome anche al secondo figlio che era il mio bisnonno poi lui fece studiare entrambi i suoi figli ne ebbe solo due perché poi quando loro avevano circa 1 12 e 1 14 anni la mamma è venuta da mancare per malattia loro avevano studiato all'epoca fino alla sesta elementare e quindi potevano benissimo entrare in banca con quel titolo di studio ma il grande che era un mio proprio zio praticamente aveva deciso di tentare la fortuna in america era il boom del periodo in america quindi acchiappato la sua famiglia quando aveva 26 27 anni e son partiti per l'america è stato in america 3 4 anni dove si scriveva regolarmente sia con suo fratello ovvero il mio bisnonno e sia con il padre ovvero l'arciprete esorcista a un certo punto in america aveva trovato un buon posto questo proprio zio in un'industria che si stava ampliando e dove lavoravano quasi tutti immigrati italiani e scrive al fratello cioè al mio bisnonno dicendogli vieni a stare qua in america da me io mi sto facendo le ossa sto cominciando a stare bene se tu vieni su ti sistemi erano passati già cinque sei anni in totale da quando era partito e nel frattempo il mio bisnonno aveva avuto quattro figli però si era sposato con una vedova che aveva già un figlio e in più si era accollato due nipoti che i genitori erano mancati e loro li avevano adottati i nipoti come cugini quindi decide di partire anche lui e di raggiungere il fratello in america l'arciprete ovvero l'esorcista gli dice io c'ho un piede nella fossa e uno sulla buccia di banana se uno di voi due almeno resta qui al paesello io ho uno dei figli su cui appoggiarmi il mio bisnonno però seppur avesse anche lui delle capacità particolari tanto che al contrario le andava proprio a cercare nel senso non i rifunti i posti il mio bisnonno aveva l'abitudine di andare ad affittare o ad abitare sempre nelle case che in certi paesi venivano considerate infestate o maledette perché voleva appurare di persona quanto e come lo fossero un po' come me devo aver preso da lui sotto quel punto di vista e lui gli dice ma guarda che tu sei anzianotto ma stai in salute e io provo ad andare con la famiglia a far fortuna là da mio fratello e quindi parte dalla sicilia e va verso genova per imbarcarsi e andare in america all'epoca i viaggi partivano da genova fatto sta che quando arriva invece a genova il figlio più grande che era figlio solo della moglie soffriva di cuore da quando era nato e a genova in un attacco di cuore che gli era venuto i dottori gli avevano detto questo ragazzo qua se fa la traversata transoceanica non ci arriva dall'altra parte allora si sono dovuti fermare poi proprio per le cure e le terapie che c'erano a genova che in sicilia all'epoca non c'erano si sono fermati lì mio nonno il mio bisnonno è entrato a lavorare nei talcider e sono rimasti a genova quindi poi mia nonna mia zia si sono sposati a genova non mia zia no mia nonna mio zio si sono sposati a genova mia mamma è nata a genova e via dicendo mia nonna e mia zia cioè la mia pro zia sorella di mia nonna sono quelle che mi hanno cresciuto e che vedevano in maniera abbastanza concreta poi della mia famiglia l'ho già raccontato mia mamma non c'è verso mia madre al terrore di queste cose se niente niente gli provo a fare una un piccola cena mi dice non me ne parlare non me ne parlare che tanto per finire le testimonianze di una vita quando mancò mio papà buonanima non è che rido perché è mancato mio papà ma perché mi è venuta in mente la scena io poi sono una che siccome la morte non la vedo come una cosa brutta a volte magari faccio delle espressioni che invece non sono consone all'argomento ma non faccio di proposito comunque era mancato mio papà e mia mamma parte con l'organizzare il funerale e tutto mio papà era ateo non ha mai creduto a niente si è sposato in chiesa perché mia madre l'ha messo a perdere perché mia mamma è cristiana non praticante però è cristiana a modo suo ma se no mio papà completamente ateo non ha mai creduto a niente lui era un uomo pragmatico pratico non vedeva niente peraltro non vedeva manco i colori perché era pure dal tonico però quando mia mamma parte con organizzare il funerale avvertire il prete avvertire gli amici e questo è quello e quell'altro io la steppo gli dico ma papà era ateo cosa cacchio glielo fai a pare il funerale non ha senso è come se mi facessero a me un funerale cristiano che l'ho lasciato detto a tutti che guai se si azzardano sono atea perché cavolo mi devi fare un funerale religioso e mia mamma ah no perché poi i parenti di tuo papà parlano bisogna farcelo poi io ci credo tanto insomma se le imbarcate tutte per convincermi che era giusto farglielo e ci dico è marito tuo fai quello che ti pare io avrei rispettato il suo credo però contenta tu che mia mamma è una che ci tiene molto alle apparenze alle cose al contrario mio che non me ne fotte una città proprio di che chiunque pensi qualsiasi cosa a prescindere e e quindi facciamo sto funerale organizziamo sto funerale chiesa grossa perché mio papà aveva tanti amici e anche tanti parenti arriviamo al funerale io e mia mamma ci mettiamo nei posti davanti la vedova e la figlia del del defunto mia sorella era incinta per mia sorella molto emotiva quindi non ce la faceva venire al funerale tra l'altro era proprio incinta di cinque mesi e quindi era a metà gravidanza si era già sentita male provando a venire all'obitorio ci ha rinunciato è rimasto a casa è venuto mio cognato ma mia sorella no arriviamo alle panche e io entro ovviamente non è che io non entro in chiesa io ci entro se c'è anche mio figlio ha fatto la comunione anzi ne ha fatte due di comunioni due comunioni e una cresima e sono entrata non è che ho problemi a entrare in una chiesa semplicemente io non credo però rispetto tutti mi metto lì arrivano i becchini portano lo so che non è da ridere ma mi scappa da ridere alla scena dopo è quello è quello il fatto non mi prendete per una insensibile o senza sentimenti e arrivano i becchini portano la barra la mettono sul trespo in mezzo alle due righe di panche davanti vicino all'altare di fronte all'altare arrivano gli altri becchini dietro con la corona grossa il cuscino che gli avevano fatto vari ed eventuali mazzi di fiori e li posizionano tutti intorno al trespolo il cuscino sopra e la corona grande appoggiata da sul dietro della vara mentre stiamo ancora discutendo con mia mamma di alcune cose riguardanti casa cosa fare la sera scusa fare anche per la lapide tutto per mio papà tanto che il prete ancora non arrivava la barra di mio papà a un certo punto fa tutto uno scossone improvviso tutti i fiori cadono a terra la corona casca casca tutto e io proprio l'istinto mi giro verso mia madre gli dico hai visto l'hai fatto incazzare che l'hai portato in chiesa che lui non ci voleva venire mia madre non vi dire queste cose è entrata in panico totale ci ho dovuto mettere mezz'ora dirgli che stavo scherzando poverino mio papà ma oggettivamente se io sono atia e mi fai un funerale non mi fai una bella cosa mi fai un dispetto non importa che io ormai sono morto mi devi rispettare le mie idee e quindi glielo glielo zompettata per un po però il mio papà era attio quindi gliene fregava niente alla fine che lo porti in chiesa che non lo porti gliene fregava una mazza perché per lui era come se non portavi allo stadio la stessa cosa ma è per far capire quanto mia madre voglio stare invece lontano da tutto ciò che è paranormale anche i miei libri ce li ha tutti i miei libri ma si è letta bene tre quattro volte i romanzi i and a e k n r e non vede l'ora di leggere il terzo così la fine della trilogia poi ha letto rituali di vita quotidiana perché comunque descrive come attirare il positivo come pulirsi e quello gli faceva piacere ha letto parie d'olio e più ora che dintorni perché ci sono le leggende di qua dei paesi montani le foto con le immagini delle parie d'olio e le loro leggende e quindi quello gli è piaciuto quando oltre a un passo da noi e l'ultimo testimonianza di una vita non lo vuole leggere perché ha paura di leggere le mie vicissitudini con le entità e con i fantasmi comunque in questa testimonianza di una vita c'era più che cose paranormali che non ho raccontato a parte lo scossone dalla barra di mio papà altre cose era più che altro per far comprendere anche il mio albero genealogico e parte delle mie capacità in discendenza poi altri familiari vari ed eventuali può darsi che ne racconterò in seguito peraltro mia nonna era anche cugina di primo grado dello scrittore shasha quindi io sono anche cugina di terzo grado dello scrittore shasha però non ho preso la sua bravura nello scrivere magari siamo solo cugini ma l'arte è andata tutta lui a meno comunque questa l'ho raccontata io quando non so di cosa parlare perché oggi ne ho fatti troppi di argomenti ci sbatto un testimonianza di una vita e così tappo il buco poi una parte le racconto nei video una parte cerco anche di dividere perché le racconto nei libri appunto testimonianza di una vita qualcuna la troverete in entrambi perché anche normale che sia così ma in generale cerco di dividere le storie che metto di qua e quelle che metto di là anche perché così si intersecano per interesse e uno segue sia il video sono sincera e sia i libri detto questo per stasera ho fernuto sono le 22 40 riesco a farmi anche un'oretta un'oretta e mezza al fresco fuori con la musica dal vivo che sono tarantelle però sono carine vado prima a dare da mangiare al piccolo despota che oggi mi è venuto un colpo che ho visto vicino alla cucetta c'aveva uno scorpioncino così non per lo scorpione non mi fa paura lo scorpione ma avevo paura che pizzicasse il micetto così chiappalo cerca di metterlo fuori perché io non voglio uccidere neanche lo scorpione però non lo volevo nel bagno con il micetto a tai paraflu oggi tutte 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 le di costa e registra d'acco salutano che sennò si incavolano ciao